Il gabinetto Vessé è uno dei centri culturali più importanti d'Europa, fondato nel 1820, celebra proprio quest'anno i 200 anni di attività. C'erano in programma mostre, convegne e incontri, un programma che si è dovuto adattare alla pandemia. Il ciclo di conferenze, le parole del Vessé, nasce proprio da questa esigenza, come ci spiega la direttrice Gloria Manghetti. Con le difficoltà del momento abbiamo deciso dopo l'estate di riprendere l'attività, di selezionare alcuni dei cicli di conferenze che avevamo previsto e di anche riarticolarli. Ovviamente erano pensati tutta una serie di ospiti stranieri che non possiamo a questo punto invitare, ma la sfida diciamo così poi ci ha fatto attivare altre possibilità e grazie alla collaborazione della Cinema, la compagnia e della piattaforma che ha messo a disposizione abbiamo deciso di recuperare il ciclo Le Parole del Vessé. Le parole del Vessé che sono le parole, i temi a cui il nostro fondatore, Giovanni Pietro Vessé, questo mercante ginevrino che nel 1820 apriva in Palazzo Buon del Monte, in Piazza Santa Trinita, dal suo gabinetto scientifico letterario, parole che continuano ad avere una grande attualità ancora oggi. La parola assegnata a Stefano Mancuso, botanico e ricercatore, non poteva che essere terra. Mancuso parte da un'immagine che tutti conosciamo, quella della terra vista dallo spazio. Che cosa mostra questa immagine? Mostra il nostro pianeta per la prima volta visto dal di fuori. E com'è fatto questo pianeta? È colorato. Questa è una cosa che finora ha soltanto il pianeta Terra. Il pianeta Terra è contraddistinto perlomeno da questi tre grandi colori che sono il blu, il bianco e il verde. Il blu dell'acqua, il bianco delle nuvole, il verde della vegetazione. Quello che è fondamentale comprendere è che in tutti e tre questi colori a loro volta dipendono da un'unica cosa, che sono le piante. Senza le piante non ci sarebbe l'acqua, non ci sarebbero le nuvole, non ci sarebbe la vita, non ci sarebbe nulla. Prima di Stefano Mancuso era toccato a Michela Murgia con la parola comunicazione, un'altra tra quelle scelte nell'ambito del ciclo di conferenze. Proseguiremo con la parola migrazione, parole viaggio. Sono tutti temi che appunto nel 1820 Giovan Pietro ha portato avanti con il suo gabinetto, con le sue riviste, con la sua editoria, ma che continuano ad avere un'attualità stringente. La parola libro, pensiamo appunto all'attenzione del libro e anche alle criticità di questa parola oggi, no? Vista appunto le problematiche della pandemia, ma non solo. Quindi la grande attualità di queste parole riviste da protagonisti della nostra cultura, ma riviste alla luce della tradizione di Giovan Pietro Viesse. Nei giorni di programmazione gli appuntamenti sono previsti per le ore 11 sulla piattaforma virtuale più compagnia per poi rimanere disponibili per le 24 ore successive. Tutti gli incontri sono fruibili gratuitamente.